la Finlandia è lo stato più felice del mondo sì sì la notizia sta sui giornali ed io la notizia ve la metto nel riassunto di questo video con il link così la potete leggere voi stessi io la notizia me la sono letta molto attentamente perché voglio sapere io voglio sapere perché la Finlandia è lo stato più felice del mondo noi siamo che so al ventesimo o al trentesimo posto non ricordo bene allora mi sono detto ma che forse dipenderà dal numero degli abitanti andiamo un po' a vedere allora l'Italia e la Finlandia grossomodo hanno lo stesso territorio grossomodo le dimensioni di Italia e Finlandia sono grossomodo le stesse solo che la Finlandia non sono neanche sei milioni neanche sei milioni sono in Finlandia gli abitanti noi siamo 60 milioncini 60 milioncini siamo noi e mi si viene a dire beh ma nella Finlandia ci sono le nevi ci sono le nevi, ci sono le nevi ghiacci e io rispondo e vabbè in Italia ci sono le Alpi ci sono gli Appennini ci sono le Alpi, gli Appennini noi siamo in Finlandia non c'è una densità una densità demografica come ce l'abbiamo noi in Italia che siamo 60 milioni su una superficie che è quasi la stessa di quella della Finlandia siamo lì andate a fare una verifica con i vostri stessi occhi andate a verificare allora viene messa al primo posto nel mondo per la felicità e certo c'è il proverbio che dice poca brigata vita beata pensate se noi italiani fossimo anziché 60 milioni fossimo come i finlandesi circa 6 milioni ma 10 milioni pensate un po' voi se fossimo 10 milioni anziché 60 milioni e allora mi meraviglio e mi chiedo ma perché? ma perché ci sono Giorgetta Meloni anche Matteo Sardini che si alimentano sempre che qua le cule sono vuote ma per chi? e bisogna andargli a dire a Giorgetta Meloni a Matteo Sardini che la Finlandia è il primo paese al mondo per la felicità però là sono soltanto sono meno di 6 milioni in un territorio che è come grosso modo come quello italiano come quello vi addiglio a Giorgetta Meloni e a Matteo Salvini che si alimentano sempre perché in Italia le cule sono vuote sono vuote le cule sono vuote siamo in tanti forse siamo in troppi capito? io l'ho scoperto l'ho scoperto il segreto il segreto della felicità dei finlandesi l'ho scoperto perché io le scopro le rose cari amici io le scopro le rose perché sono l'autore di quest'opera storico-mitologica capito? io sono questo qua poca brigata vita beata 5 milioni e mezzo sono in Finlandia con una superficie territoriale che è come la nostra grosso modo andate a fare le vostre verifiche personali 5 milioni e mezzo e noi una sessantina di milioni siamo continuiamo a crescere anche se le cule sono vuote continuiamo a crescere continuiamo è il segreto è il segreto della felicità dei finlandesi ve lo svela Serafino Massoni perché mica c'è scritto nell'articolo negli articoli giornalistici che vi parlano della Finlandia che sta al primo posto per la felicità mica ve lo dicono ciò che vi sta dicendo Serafino Massoni e certo perché Serafino Massoni è Serafino Massoni ed è autore di quest'opera storico-mitologica ok cari amici cari amici a tutti tanti cari saluti dalla stilpa del serpente